ciao a tutti come state spero bene come avete passato le feste cartone spero dal più profondo del cuore che le abbiate passate bene con i vostri familiari con i vostri amici con le persone che amate e io con volevo farvi i migliori auguri di buon anno di buona salute soprattutto perché se c'è la salute se tu c'è tutto e con la visione di queste meraviglie io leato le stra adoro quante ne mangio queste le ho appena comprate finito lavorare preso i limoni bio di sicilia qua e ne ho già mangiate tre volte tante di queste il resto queste qua andranno gratinate ne faccio gratinate sono stra buone a parte che questa è una varietà di diostrica stupenda ho fatto i finocchi croccanti al forno adesso sono cotti ho lasciato il forno aperto adesso preparo le signorine gli faccio ripieno faccio con pangrattato prezzemolo niente aglio e un goccio di olio extravergine d'oliva buone 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 e niente io vi mando un bacio non ho seguito niente perché lo sapete ormai chi mi conosce lo sa che effetto hanno su di me queste feste per fortuna sono finite tutto bene vi mando un bacio continuo fare da mangiare se no perché ci vuole tempo a lavarle aprirle aprirle perché l'altra volta con questo con la priostri che qua mi sono un po massacrata la mano adesso metto il guanto niente vi mando un bacio dal più profondo nel mio cuore grazie mille grazie grazie di esserci cioè chi voi ci siate un bacio un bacio e mi farò viva presto ciao